Ciao a tutti oggi faccio questo nuovo video dove voglio mostrarvi come installare applicazioni esterne dal play store quindi file apk l'estensione apk è il file di installazione dell'applicazione android e in particolar modo voglio farvi vedere come installare il play store visto che su alcuni device potrebbe essere interessante visto che il play store potrebbe non essere presente e sky go vi anticipo già che comunque potrebbe essere anche non compatibile con il vostro device ovviamente l'unica è provare ovviamente nella descrizione del video e all'interno del video vi linkerò tutti i collegamenti per scaricare e fare l'installazione di sky go e del play store e in questo caso vi faccio vedere cosa dobbiamo fare per installare questi due file io ovviamente nella mia cartella download l'ho già scaricati nella mia cartella download ho già i due file da installare e devo solo installarli andiamo per ordine la prima cosa che dovremmo fare è ad entrare nelle impostazioni del telefono ok io ho già attivo questa funzione nelle impostazioni del telefono dovremo andare ad attivare in sicurezza la voce origini sconosciute come potete vedere io in questo caso l'ho già attivata voi nel caso è la prima volta che installate applicazioni esterne dovrete andare ad attivare comunque vi verrà notificato nel caso non sia attiva questa voce ok una volta che ci siamo assicurati che la voce origini sconosciute si attiva andiamo a prendere i nostri download altro consiglio è quello di installare un file manager anche in questo caso vi segnalo dove scaricare qualsiasi file manager che comunque vi permetta di aprire i file entrare nella cartella download io in questo caso ho i due file e niente partiamo con il play store andiamo ad installare il play store ovviamente io in questo caso come potete vedere lui ci chiede di installare il play store e quindi non lo andrò a reinstallare come potete vedere qui ho la anzi ho sbagliato no fortuna non è partita l'installazione come potete vedere ho il pulsante installa e partirò con l'installazione andiamo a vedere skygo stessa procedura in questo caso la vado a installare visto che tanto dopo l'andrò a disinstallare visto che io comunque non ho un abbonamento ovviamente skygo c'è da dire che se necessita di un abbonamento per appunto visualizzare i canali e in questo caso io ho scaricato l'ultimo apk e partirà l'installazione come segnalato nel post dove potete trovare sia il link del play store e di skygo c'è scritto tutto quello che c'è da sapere sulle rispettive applicazioni ok l'installazione è terminata andiamo ad aprire skygo in questo caso su nexus 4 è supportato anche ufficialmente e mi sembra che dovrebbe funzionare questo qui è il primo avvio quindi lo sto facendo con voi quindi non so se è funzionante o meno però diciamo che skygo sul nexus 4 dovrebbe essere supportato vediamo come non detto si è chiusa andiamolo a riprendere dove è finito skygo eccolo qua era partito ok come già anticipato comunque su alcuni device potrebbe non andare visto che l'applicazione comunque non è nata per il dispositivo non risulta compatibile con questa applicazione quindi scherzavo come vi ho anticipato l'unica è provare e su alcuni device appunto non dovrebbe dare questo messaggio e niente spero che appunto io questo video l'ho creato per mostrarvi come installare applicazioni esterne al play store visto che comunque chi si affaccia per la prima volta al mondo di android potrebbe essere utile visto che comunque ci sono tanti file apk oltre a skygo e al play store però il file di installazione di skygo e del play store comunque sono due applicazioni abbastanza ricercate niente per il momento è tutto spero che in questo breve video comunque vi abbia mostrato tutto se avete qualche dubbio non esitate a chiedere nei commenti e niente ci sentiamo alla prossima ciao ciao